Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale. Oggi vi portiamo un aggiornamento su una tragica vicenda accaduta a Mascali, in provincia di Catania. Prima di iniziare, vi invitiamo a iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessuno dei nostri video. E ora, passiamo alla notizia. Un uomo di 41 anni è stato mortalmente ferito a Mascali, in provincia di Catania, durante una lite con un vicino di casa, anche egli 41enne. L'aggressore ha colpito la vittima alla gola con un paio di forbici, causando una vasta emorragia. La vittima è deceduta all'ospedale di Giarre. I carabinieri hanno arrestato l'aggressore, trovandolo a casa con la maglietta sporca di sangue e un marsupio contenente le forbici usate nell'attacco. Il movente della lite è ancora sconosciuto. La procura di Catania, sotto la guida dell'aggiunto Fabio Scavone, ha disposto il trasferimento dell'arrestato in carcere l'autopsia, che sarà eseguita domani. Grazie per aver guardato il video. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questa triste vicenda. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati su tutte le nostre notizie e approfondimenti. Alla prossima!